Ciao a tutti ragazzi e benvenuto a questo nuovo video, io sono Sikmelo e questo c'è il cappello storto Lo so, aspetta Ciao a tutti, io sono famosa perchè sono il canale di Sikmelo Il cappello dove c'era il storto Niente, noi stiamo andando a Catechismo della Mede, si va a Catechismo 3 A posto di Bianca c'è lei Perché è più figa Sì Noi stiamo aspettando Canaletti che mette la formazione, se no io mi incazzavo lì Canaletti per il bravo Canaletti non metterla, fai il bravo Io sto a morire di freddo Anche io Ma noi stiamo andando a Catechismo No, copyright TOGGLIA MUTICA Allora, se mi dai il copyright, paghi tu Sto, ecco Bianca c'è Non c'è, non viene Ma che cavolo vuoi Niente, qua siamo, si va a Catechismo Questa non si sa che cosa deve fare Sì Fortuna che non l'ho fatto vedere Dove vai? Tu vuoi andare? A Catechismo A Catechismo A Catechismo A Catechismo Io penso che sta Io pensavo che cazzo ne prendi Sì 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 Hai capito Vabbè Comunque raga Che te ne frega a te No ma sei si cattivo oggi E sta pigliato Poi non lo so se viene Sì 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 E niente Qua si va a Catechismo 3 3 è il numero della perfezione Dopo è finito Ecco questa è la perfezione No 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 dopo si va il quattro No dopo E come ogni Catechismo ci sono quelle Hello It's me Ehm Praticamente Questa sera Questa sera andrà avanti Andrà avanti Andrà avanti Per le terrua Quello lì è Massimo Massimo Adesso che sto andata io nei video del cittadino Farete un sacco di seguati Massi Iscritti Sì ma sta lontano Tu dici Ma Massi se corre non gli fa male C'è anche il Vitao Capasso No io voglio Massi No c'è il Vitello Vitello Sì Vitelli Immagini Vitello Stavamo giocare insieme 31 kill Tutte rubate E' scarso Noi non me ne vedete più su sti video Perchè non ci vengo mai a Catechismo Massi E' capasso 31 Dura Ninja Ninja Massi vedi adesso fa un basso dei cosi sullo canale perchè sto accombarsa io Chi è? Io Che stai fa? E' lì qua Dai non mi vedrai più Ciao ciao Buongiorno 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 Mi abbiamo riprese Adesso pubblichiamo su youtube Pramente? Cosa pubblichi? Si fa a Catechismo 3 Io c'ho una serie si fa a Catechismo 3 Abbiamo incontrato pure a Stodigio Ma non sei bello Il vitello Il vitello Il vitello Con l'altro vitello non viene Ma perchè domani Andrea non viene? Perchè c'aveva un pranzo Madonna cosi pranzi ooo C'è il pranzo? Magna quello che cavolo ti fare Come lo devi sul telefono? Su Bola Bola Guarda mamma come mi diverso Madonna Ma chi l'ha invitata a questa? Chi? Chi? L'ho invitata da sola Appunto Quindi non ci invitano da sola le persone Ma si comunque Lunedì faccio il video eh E qua? American graffiti Veramente? Con chi? Ah c'era io No io pensavo che l'avevo detto a Luca e non a te Con chi? Ecco il mio compleanno Ah è vero Quando lo fai? Faccio lunedì Però a te non t'ho invitata Prego Perchè non ho invitato Perchè non ho invitato Perchè sennò ti invitavo Andrea? Andrea no L'hai invitata solo con lì a classe L'ho invitata Perchè Massimo va in classe con me? No E allora L'hai invitata? Sì Allora Prof Prof Senta Pietro Prossimo video tutorial 1 Si va nel cesso Ah qui dentro il cesso Ma perchè Ma perchè Perchè non ti fai un canale e fai tutte queste cazzate? Ma non mi è guisteria Però non perdi il tempo della mia vita Fallo C'è più smuccia e ti Sì Dai no Bellissimo Jennifer Jay Jennifer Matthew No no E' bello smucciati Smuccia No Sick smuccia Io so che sei sick No tu sei sick smuccia Io so che sei sick Sick smuccia Sick smuccia Sick o sick? Sì la banana Smich Sick Sì la banana Sick Bonana sick Malato Malato in inglese e così in latino così così me lo ha bianca ok è come solito c'è pure bianca ormai d'ho ripreso che pezzo ma guarino che ruolo fa è arrivata è alibata il primo secondo terzo poste prima c'è un due quartieri testo cavolo si visto siamo due quartieri uno non viene mai carlo carlo non viene mai quest'anno quando è partita una due una una volta compro due no due la prima no non è venuta jesi così non è venuta jesi era la prima la seconda la seconda la seconda era in casa è secondo san benedetto no no forse ci è venuto solo una volta carlo squadroni alle partite no due quali no quando guarda ci è avvenuta tutte sì sì non è mancato quali no perché è titolare e per forza come la don jè chi facevo giocare in portacapasta si alberta di cotina tira su ma non importa che basta ciao ciao vado all'oratorio dove vado ah no è vero si ho scusa eh tu non andare a fare scuola eh non è male vado a fare ora c'è una dio lì c'è l'industria e tu che andai a fare dimmi coetico coetico questa balla mai c'este c'è un po' di privaci c'ha detto tu dove vai binky vado in binky 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 io la chiamo binky ok ma che nome è binky io vado a seconda b questo va se lo scendiamo chi ti passa madonna io vado lì ciao a seconda è stata ripresa è stato pubblico certo perché dato che ne fa tanto io non posso politizzare eh comunque potremmo realizzare il futuro, questo video non te lo devo dire casomai la cittura come si fa? come si fa? ma guarda come la sua cittura è porco piii no fallo porco piii sai che se ieri, cioè se Romani non rimandava la partita alla fine io non andavo alla partita eh lo so me l'avevi detto quindi se la fortuna vai andate a San Meletto oh dovete vincere che cori sono fatti so so bravi ma dai lo perdiamo, non c'eramo nessuna eh lo so siete in sei Elisa sai se viene? no non viene? non so se...è ma dove hai messo il video? è oggi bravo grazie e poi c'è una cosa perchè perchè? mettilo un mese fa perchè? perchè? oh ti metti i video su youtube? ma neanche no perché tu non ce l'hai un canale no jay jay no noi vediamo jay vediamo jay jay banana jay banana jay banana jay no niente raga noi siamo pure arrivati a Cristianenzi per capozzo purtroppo 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 siamo arrivati e poi si è fatta avanti brutto come una fame eeeh una candela si fatta una candela? e com'era? questa bella candela era buona era a mia piacera che era? che? ora Luca si vede guarda 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 il cappello di Luca sembra che è un loro cappello esatto un loro cappello brutto è bello oh oggi gioca la Napoli eh quando la Milano? stasera Coppa Italia ma che Coppa Italia è campionato? no Coppa Italia con un campionato frappa Italia oh questo il Napoli è vero che oggi gioca la Coppa Italia eeeh Milan? si non è il campionato si no guarda che il Napoli è andato con il Milan ah raga io chiudo qua il video perchè così va ti voglio vedere ah no se lo faccio qua vai su tutto il calcio vai su tutto il calcio vai su tutto il calcio ah raga questo mio finisce qua se vi è appiccino poi sento guarda commentate condivete seria io ti ho subietto che è il Coppa Italia oggi? nooo seria sei stupido no Coppa Italia si ecco re la Coppa Italia e domani io che la Coppa Italia Lazio la Coppa Italia ci sta mercoledì martedì si vedi aspettato quindi oggi gioca Napoli e Milan eeeh e gioca anche martedì sempre Napoli Milan comunque raga se vi è piaciuto se vi è piaciuto pollicione in su commentate condivete se non siete iscritti iscrivetevi al prossimo video col visto sicchimero insieme a sicchicguardo ciao ciao vitali ciao